Eccomi a voi, Ruggero Bonanno, il vostro consulente immobiliare Remax. Oggi rivolgo questo messaggio agli aspiranti venditori su un territorio diverso da quello che è il mio abituale. Ho ritirato l'incarico di un aspirante acquidente nel comune di Milano, quindi siamo nel capoluogo Lombardo. Mi sto occupando della ricerca quindi di un appartamento bilocale, che sia nuovo o ristrutturato, quindi molto vicino al nuovo. Devo gestire un budget fino a 280 mila euro e siamo alla ricerca di un appartamento che sia quantomeno un bilocale, non importa, non è determinante la presenza di una autorimessa. Milano è molto grande, cerchiamo di focalizzarci geograficamente, siamo ovviamente fuori dal centro, nel limite della circonvolazione. Stiamo parlando dei quartieri a nord, nemmeno soltanto alcuni per aiutarvi, zona Volconi, zona Washington, Foppa, il nuovo quartiere Isola e Cilitero Monumentale. E' appunto le zone di mitofe, purché all'interno del limite della prima circonvolazione. A presto!